Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. L'evasione fiscale, l'evasione dell'IVA dove siamo i campioni assoluti in Europa. L'abbiamo saputo ieri, certificato. Giorgia Meloni dice che non si può imputare a lei e al suo governo questo record. Su questo ha ragione, no? Assolutamente. Come non le si può imputare i ritardi del PNRR che evidentemente rimontano al governo precedente, quello intoccabile dei migliori che le ha lasciato una situazione di ritardi. A La Meloni sono imputabili le evasioni che verranno fatte da oggi in poi perché questo governo non solo strizza l'occhio, magari strizzasse solo l'occhio, fa ponti d'oro agli evasori. Nella manovra finanziaria ci sono 12 norme favorevoli agli evasori o a quelli che hanno dichiarato ma non hanno pagato. L'ultima che è saltata fuori è che se tu hai dichiarato il reddito e non hai pagato le tasse ti abbuonano le conseguenze penali nel caso in cui paghi in futuro. E così quei cretini che dichiarano quello che hanno guadagnato e hanno pagato subito come al solito faranno la figura dei fessi e la prossima volta eviteranno di sentirsi ancora cretini. Parlo naturalmente a nome di quei cretini anche perché essendo un dipendente anche volendo non potrei fare altrimenti. E noi scambiamo, proprio cambiamo le carte in tavola sul tetto europeo. L'Europa non ha mai avuto un tetto e quindi adesso l'ha messo. E come si fa con i drogati, non è che gli si può togliere la droga tutta insieme, bisogna dargli il metadone, bisogna fare il décalage. E quindi hanno stabilito un tetto là dove non c'era. Noi invece ce l'avevamo perché sappiamo di essere la pecora nera d'Europa per l'evasione fiscale. Non c'era bisogno che lui ci dicesse ieri che su 93 miliardi di evasione IVA noi contribuiamo per 26 e gli altri 26 paesi fanno praticamente il doppio di quello che facciamo noi. Ma sono in 26 gli altri e noi da soli facciamo un terzo dell'evasione IVA. Quindi dato che lo sappiamo abbiamo avuto dei governi coscienziosi, il governo Monti e il governo Conte, che hanno abbassato il tetto a 1000 euro. E poi abbiamo avuto dei governi scriteriati, il governo Renzi che lo alzò a 3000 e questo governo che lo alza a 5000, che non solo strizzano l'occhio, ma danno un concreto aiuto a quelli che hanno un sacco di contanti in mano e non sanno come giustificarli e quindi li devono spendere. Un conto è spendere in una botta sola e un conto è spendere in tante botte. Oggi hanno preso un ex euro parlamentare del PD e Salvini ha subito esultato, io capisco che chi non può dimostrare che i suoi non rubano si consola col fatto che rubano anche gli altri, ma gli hanno trovato in casa 600 mila euro. Secondo voi la polizia belga quando trova un ex parlamentare 600 mila euro in casa pensa che sia il frutto del suo stipendio o pensa che sia una mazzetta? Pensa che sia una mazzetta, perché lo stipendio non te lo pagano in contanti. E quindi se tu puoi spendere tutti quei soldi con tetti più alti fai più fretta a riciclarli, è molto semplice. Ci torniamo e l'ex euro deputato...